Giacomo, si respira un po' meglio dopo la vittoria contro il Fano? Sì, decisamente, perché comunque era una partita troppo importante per allontanarci da quella zona pericolosa. Abbiamo portato a casa i tre punti e adesso cerchiamo di chiudere bene questo fine di campionato e passare le vacanze tranquilli. Immagino che tu ne abbia lette e sentite tante sul reparto avanzato, ma tu che del reparto avanzato sei parte, cosa pensi di questa astinenza da gol? Io penso che ormai dobbiamo cercare solo di fare più punti possibili e non fissarci troppo sul gol, perché sicuramente dobbiamo migliorare tanto. Perché non è possibile che anche sabato, in 90 minuti abbiamo fatto pochi tiri in porta e sicuramente abbiamo dei limiti. Dobbiamo fare qualcosa in più, purtroppo non sappiamo perché. L'importante è vincere la partita e portare i più punti possibili in cascina adesso e poi con calma ci lavoreremo. Tu li aspetta il vero Tulli? No, io cerco di dare sempre il massimo e voi sarete a giudicare il vero Tulli o il falso Tulli, non lo so. Però ognuno di noi dà sempre il massimo e poi certo quando uno gioca bene sempre fa piacere. Sabato ci sarà un altro impegno difficile, diverso da quello contro il Fano, però la Reggiana arriva da una lunga striscia di risultati positivi e non sarà facile. No, assolutamente. È una squadra in salute, con buoni giocatori. Non è facile, ma purtroppo in questo campionato tutte le partite difficili, quindi andiamo là e ce la giochiamo. Firmeresti per un pareggio a Reggio Emilia e poi magari vincere l'ultima contro il Mestre? Se è così sì, firmerei, però nel calcio non si sa mai perché ci sta anche che andiamo là a fare il colpaccio come a fare una partita da 0-0. Quindi andiamo l'avviso aperto, abbiamo dimostrato che forse solo Pordenone ci ha messo un po' i piedi in testa in questo campionato, quindi andiamo a giocarcela.